Salve, sono Maria Antonietta Firmani, Parallelo 42, Contemporary Art. Ringrazio Andrea Florinda per avermi invitata al Magnifico Tour tra i Monti Sicani. Ho realizzato questo breve video sulla carovania creativa per raccontare la straordinaria centralità dell'umano in tutti i progetti di Farm Cultural Park. Ciao, sono Andrea Bartoli, sono il fondatore di Farm Cultural Park. Siamo ad Alessandria della Rocca, a luna del mattino, dopo 48 ore, workshop, laboratori, visite, escursioni, unicizia e partecipazione per riprogettare il futuro del Monti Sicani. Ciao, sono Florinda Saieva, fondatrice di Farm Cultural Park e oggi sono qui a conclusione di questi due meravigliosi giorni. Ho avuto l'onore e il piacere di ideare e scrivere questo progetto per sette comuni, tantissimi partner e soprattutto la felicità di poter incontrare e conoscere tantissimi giovani di questo meraviglioso territorio. Materina! Sono urbanista dell'Università di Palermo e sono qui perché con il mio Augmented City Lab stiamo portando avanti insieme alle cosette comunità dei Sicani un workshop generalizzato a ragionare e a dialogare con la comunità, a estrarre potenzialità e trasformarli in un progetto. Il mio fashion design e pure design all'Università di Hong Kong. Sono qui in questo magico tour tra i colli Sicani perché sono stata invitata da Andrea Bartoli in quanto da gennaio ha usato il padiglio in Hong Kong per camp. Mi occupo di innovazione e ho partecipato alla Sicani Creative Festival per condividere un metodo di lavoro per trasformare le idee in prototipi. Sono una designer, una mia azienda figiana, ci sono scarti di aziende private in oggetti di design e sono qui perché voglio conoscere questo territorio meraviglioso. Sono pesaggista e filettore del giardino della Colimbetra, un bene archeologico e pesaggistico che ho trovato all'interno del parco della Vallo dei Tempi e gestito da FAI, il Fondo per l'Ambiente italiano. Sono qui perché sono molto incuriosito da questo fervore. Sono l'insegnante di scuola di Maglia, Mazzarino, che ho ascoltato l'occasione, ringrazio Andrea e spero oggi di conoscere meglio questi bei bordi. Sono partner di uno studio fiscale negli Stati Uniti, a Boston precisamente, e sono qui perché mi invita da Andrea e per riconoscere ancora di meglio il mondo di farm cultural. Ciao, mi chiamo Viola, ho 11 anni e sono qui perché visitare posti nuovi, ma anche per passare un po' di tempo con i miei genitori e con le persone a cui voglio vivere. Allora, io mi chiamo Lucrezia e devo andare in prima media. Sono qui perché sono amica di Viola. Sono l'agricoltore permacultore e sono qui per un caso fortunato. Sono un'insegnante psicologa e sono qui oggi per seguire farm perché è un mondo meraviglioso. Seguiamo Florinda e Andrea o comunque vadano. Ho conosciuto diverse volte l'artista e mi interessava conoscere questi borghi. Lavoro in Pus, è un laboratorio di design, sono di Milano, vivo in Sicilia e sicuramente esplorare i Montesicani e l'introterra della Sicilia per me è una... Sono un videomaker, collaboro con Farm Cultural Park, questa bellissima realtà e oggi sono qui perché credo che questi posti vanno assolutamente vissuti. sono qui perché seguiamo la farm e dagli albori e vogliamo conoscere questi nuovi posti che io personalmente... Sono professore di urbanistica a Palermo, all'Università di Palermo. Io sono qui per supportare lo sviluppo locale. Sono parte di Pus, un laboratorio di Palermo di design per la sostenibilità e l'innovazione sociale. Mi sono unita a questo gruppo per recuperare una dimensione di comunità. Il mio nome è Giuseppe, faccio la quinta elementare con il mio studio. Sono qui perché vado alla farm e da fin quando sono piccolo. Qui perché ho accompagnato principalmente le mie figlie a scoprire questi luoghi che non conoscevamo. Sono un videomaker e mi trovo qui per documentare tutti gli eventi che si susseguiranno durante il Sicani Creative Festival. Mi occupo di danza e di teatro da molto tempo. Sono qui per scoprire o scoprire perché non conoscevi... ...studio per diventare insegnante di sostenibilità. Sono qui perché come tutti i progetti Farm sicuramente racconteranno una storia di un territorio che avrà aspetti sicuramente interessanti. Siamo ben contenti di seguire i protagonisti perché conosciamo nuovi luoghi. Sono un gruppo di marketing e comunicazione e sono qui per raccontare il Sicani Creative Festival. Sono un artista e un imprenditore. Oggi mi trovo qui insieme alla comunità Farm per scoprire delle perle preziose che fanno parte dell'entrosera siciliana. e sono qui per esplorare e conoscere quello che intorno. Anzi l'ho sempre conosciuto, in realtà non si smette mai di conoscere e di imparare. Io mi occupo di documentazione fotografica per farmi fin dagli inizi e oggi sono qui per documentare queste due fantastiche giornate. sono qui per realizzare un intervento nel paese di Cianciana all'interno del progetto organizzato da Farm. Sono qui per raccontare e narrare questo processo di trasformazione e cambiamento. Mi occupo di finanza, siamo grandi amici di Florinta e Andrea. Stiamo a vedere questi posti meravigliosi e cercheremo di portare questa bella esperienza che... ...il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo e sono qui con l'auguramento al CityLab per il volo di co-progettazione di arci di piano. Il mio sogno è fare l'architetto. Sono venuto a Farm per conoscere le tecniche di riqualificazione da importare nel mio territorio. Sono l'Urbanistica all'Università di Palermo, al Dipartimento di Architettura e sono una componente dell'Auguramento CityLab diretti da Maurizio Carta. Sono qui per condurre questo workshop di co-progettazione architettica. Questa vita mi occupo di nutrire la mia anima di bellezza perché sono qui per questo motivo. Per nutrire la mia anima di bellezza e poter donare magari... Architetti dei co-designer sono qui perché faccio parte della rete del Cartolaio del Bosco. Sono un architetto e sono qua nel posto più bello del mondo insieme con un gruppo di persone molto belle. Un community manager di Sicilia che cambia e sono qui per conoscere, esplorare e raccontare il cambiamento che stanno attraversando queste comunità democratiche. Sono qui perché credo molto nella cooperazione, nello sviluppo dei territori e soprattutto in un pensiero contemporaneo. Sono qui grazie a Prime Minister, la scuola di politica per giovani e donne che frequento a Favara. Sono un architetto. Sono qui perché Farm mi ha dato la possibilità di alimentare le emozioni. presentesse di lettere moderne e oggi siamo qui per scoprire una parte di Sicilia che non avevamo avuto ancora molto tempo. Sono qui perché faccio parte del comitato organizzatore del Sicani Creative Festival. Ho 15 anni e studio al liceo classico e sono qui perché mi piace esplorare i nuovi territori della... Faccio un antropologo, è attivatore culturale, sono impegnato in diversi progetti di rigenerazione locale. Sono qui per conoscere alleate e alleati in questa rigenerazione della Sicilia. Grazie !